salve a tutti gli utenti oggi ritorno con la presentazione di un prodotto che ho trovato molto molto interessante ecco qui cronosonno di equilibra per riposo notturno a base di melatonina con estratti vegetali concentrati è molto particolare perché è una compressa formata da tre strati il primo è a rilascio super fast da 5 minuti contiene passiflore e tiglio per il rilassamento in caso di stress con melissa per il normale tono dell'umore poi un rilascio ritardato fino a 6 ore con melatonina griffonia per favorire il sonno con triptofano spero si lega così e melatonina e poi un rilascio fast quindi veloce da 45 minuti con melatonina quindi per la melatonina per la riduzione del tempo richiesto per prendere sonno e la vitamina b6 per il normale funzionamento del sistema nervoso quindi ha una formula come c'è scritto tripla tripla azione molto molto particolare perché effettivamente in questi periodi un po caotici dove ci sono tanti pensieri la sera si riesce a dormire difficilmente cioè comunque si prende sonno si fa fatica a prendere sonno ecco qui che uno si aiuta con questi metodi che non portano comunque a sue fazione e si trovano nei supermercati ecco qui vi leggo un attimino quello che c'è scritto qui nel reto della confezione cronosono equilibrio integratore alimentare a base di melatonina ed estratti vegetali concentrati in compresse triplo strato formulate con tecnologia innovative super fast fast retard che permette al prodotto di rilasciare i suoi componenti funzionali già dopo 5 minuti e fino a 6 ore dopo l'assunzione strato super fast con pasti flora e tiglio per il rilassamento in caso di stress e melissa che contribuisce al benessere mentale e al normale tono dell'umore poi c'è lo strato fast con melatonina che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione poco prima di colicarsi di un milligrammo di melatonina con valeriana per il rilassamento in caso di stress e per favorire il sonno e vitamina b6 per contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica strato re-retard con triptofano melatonina e griffonia i semi di griffonia possono coadiuare il normale tono dell'umore e favorire un sonno fisiologico quindi questi sono tutti gli ingredienti come potete leggere io l'ho trovato scontato in un supermercato a 5 99 se non erro sono 30 compresse adesso vi faccio vedere l'interno della confezione la confezione si presenta in questo modo vi leggo la modalità d'uso si consiglia una compressa al giorno da deglutire con un abbondante bicchiere d'acqua un'ora prima di coricarsi così sono le avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata tenere fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età integratori alimentati non vanno intesi come sostituti di una dieta variata equilibrata e di un sano stile di vita non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico ovviamente poi qui abbiamo come si ricicla quindi 15 grammi di prodotto ogni pillola è da 0,5 grammi conservare il luogo fresco ed asciutto e quindi adesso vi faccio vedere com'è proprio la pillola ecco qua uno più scuro uno più chiaro al centro e uno medio scuro in alto e poi qui esce all'interno sempre della confezione diciamo i vari loro prodotti di equilibra ma sono anche molto molto curioso di provare tipo che c'è anche relax giorno e notte magari da provare sono interessanti io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa nuova video presentazione di prodotto spero vi possa essere utile alla prossima ciao a tutti